È tutto pronto È tutto pronto È un... Lo metti nel video È un pazzo Sono tutti i ragazzi, no? Pazzo, se qui c'è veniva me, c'è il mio freddo, pazzo, video Dan blu, danno, 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 danno Ok, possiamo continuare questo video Ragazzi, oggi è una partita challenge Chaghene, ingratiti ragazzi Chi sono questi guadini ingratiti? Oh yes, avete già capito chesni a posto di ronardo quindi un'altra volta c'è si data come messi in porta e testa che ne in attacco ragazzi che più fatto noi messi le un'altra volta messo e basso ragazzi lasciate like e scrivete al canale perché cadis a stati di oggi portiere al top ragazzi questo è il futuro se proprio al top e top 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 e per la cosa più Stava bene la Ecco qui ragazzi inizio qui la partita c'è un vicesimo un attimo ragazzi sono io e Federico è il pazzo vino ecco poi un altro in volta guarda come se la fa un bar con la maglia non ufficiale perché Di bala pecesni Sessione l'ha visto Dopo le portiere sono quasi un bottiere Ter Stegen Mazzami E' un attimo più forte però non va E' fuori gioco Fede E' fuori gioco E' fai fuori gioco E' andoronaldo si Non la va la Si si Ho un gigante c'è Proviamoli Vai No 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 L'ha visto Ha scattato No 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 Messi è piccolo Vabbè ragazzi è imbarabile ragazzi Che golettino Golettello Di Di Bala Vabbè sono bel gol E' scendere E' scendere Con lui Attenzione Però Vediamolo Attenzione Pum Però Messi è basso Guarda non c'erano nessun bottiere No ci che ci arrivava Vado qua Vediamo se ci arrivava C'è le mani piccole Ma come avevo tutto piccolo Messi è possibile No io sono piccolo No io sono piccolo Windows 0 a 0 e poi 3 a 0 Ma? Quella volta quando abbiamo fatto Eh li ricordi No C'è la selezione E' no Messi E' no però Subito Subito Cesti Il gol di Cesti Ragazzi Anche lui segna e batte Messi E' messi Ragazzi Ah non è che si basso Si viene una bolla E' no però sembra un anetto Ma guarda Cesti Fai in porta E' più forte l'attacco Che è la pulce del Barcellona E' Cesti che è un grande attaccante Non fa sta cosa che Nooo Vai Suarez Cosa Non ci sta nessuno Eh no allora dove vai Vai Si 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 Pronto 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 Ti provo Si Gol Che gol Che gol Che gol Le Guarda Un guai Lettino Bruttino Vediamo 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 Cioè perché C'è perché Il mio è tutto spasso Ma vabbè Ed era dell'articene Mare bugate Ma che cosa Ma dai Anat bianiccio che dire non è successo in da quei questi non c'è io e mi dispiace dopo basso dai e guardi qua infarci dei ebrei non farlo vedere è un po più alto ci arriviamo a questa è certo perché non è un portiere ciascini attenzione le 4 a 1 mamma mia i guardi da qua ho capito che può segnala che dirà c'è arrivato me la parata messi è la parata ragazzi ebrei c'è ragione vince cinquanta anni neanche ce l'ho come si fa la toccata no sono mesi vediamo la toccata no la toccata da qua vediamo è la toccata la toccata ragazzi che curetta allora che c'è avuto è perché stava fatto con il palermo e ragazzi a stag collettino collettello questo non si ferma ma chi è la parata esatto ragazzi mi ha fatto due tv sul portiere guardate qua guardate qua ho fatto due tv sul portiere è bucato non ha dondo regale c'è ha fatto duva pepeone che cavolo come si fa dai che fa fatto con la ciascini è cartellino rossi signor abbio e te lino rostro che cavolo questo è bullismo con degli attaccanti poteri la questione c'è ancora lui ormai non è un altro per gli uendis città è rosto questo rosto fanno detto se segnala quale uno scatto e se ne ho quale uno scatto ecco due ad un calcio all'aria vabbè allora faccio cosa se ci riesco su alex è partito si era fermato non ho fermato ok ci provo da dire in qualche modo che gol che gol che gol rivediamo vediamo che cosa schifo io dai fantastico perché ovviamente no la palla ti passa qua ragazzi la palla ti passa qua buffo e si può a verso bufana ma la stacqua è un altro che ci prenderà con questa mano qua la prendi conquistata no che non c'è arriva c'è invece di poco si vabbè l'altra parte invece di fa con questa poco si usa questa piccola che sta più lontano se non avete capito no vabbè io ho capito questo è questo ma da pari super super basta basta sono abbiato da qui madonna che papeta o come ho voluto ma la gira fuoriporta mamma mia mamma mamma maria mamma mamma ok battito ronaldo addio c'è paura o ok questo è gol ragazzi oggi ho l'avvio ok se ne va rado se ne va rado niente può fermarlo ma che vuole fare si fischia signor abito fischia 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 grazie almeno però stavolta è l'arbitro certo certo lo pagano no no si sono pocati i pantaloni a messi ma che cosa ma che cosa mamma 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 maria e i disegni sono grande vado la parata di messi attenzione partito andando c'è si è segnato che stagano no oppa la lì oppa la lì oh no oh no mi so svegliendo di mano oh no 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 ho paura ho fatto una che ingavorata bello bellissimo e no però e no si può andare avanti mi piace il zacco eccolo qua la cavolata la cavolata la cavolata di pezzovino la cavolata di pezzovino ci sono messi in bocca ma messi non ci sa oh ma allora segno con la parola no 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 è venuto di angolo no 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 io l'avevo premuto quando si arriva quadrato eh quando si arriva quadrato eh quando si arriva quadrato se per me di angolo lascia fa tieve è intelligentissimo ma non è valido e perché no non è valido e perché non è valido e perché non è valido ma non è abbassato quadrato e grazie e triangolo c'è se la mamma mia c'è se c'è c'è un fottito c'è se non mi vuole una giovanetta c'è quanto è più forte sembriamo al giocatore del mare con il quadrato allora viaggio se la paga e il culettino è vai vai roberto roberto questo sangra sergi roberto e e e e che 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 questo perché stanno sempre bufonde con ronardo vabbè e che pure tanto da venute sbaglio comunque perché sotto e gol in vita finissimi fatto c'è quando si butta da provare cavolo so che non è poterlo dai di vendeci sa vado 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 cosa cosa no no ragazzi no no basta adesso nella costa infortunato di bala mamma mia chile steven e questo è nato fallo e si sembri e non ho fatto niente vado 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 è inutile basta si tutta così fino a mosa da vince io vetti x eccolo qua iguainz da qui oppà ops ops forse anche tu c'è un bottiere che non è un bottiere Uwa Uwa dice un'altra persona Oh se ne la rubo Non la rabbio E' rotto Oh madonna E' rotto E basta E questo si butta Simulazione Lo faccio fare da Messi Se mi segni con Messi Ti giuro Io non le so batte E lo meno male Messi contro Leonardo Attenzione Non ci credo eh Ti ho messo Vai mu Vai mu Poteva essere la tua buona che si Vai mu Vai mu Oddio Vai Ok Vallo detto Vallo detto Si Non ci credo Non ci credo No vabbè No vabbè Che mi sono mangiato mo Che cavolo Che cavolo Madonna mia Cioè si Naggia Cioè si non ce la fa più 5-5 No No Oh Tersegan E' la volta buona che può fare un gol Nope Nope No E' la seconde Minumale Super Super Buffone Buffone Come che c'è di vicore Da te uscito A te uscito Non lo so Ah beh secondo Leonardo Ma che cosa è Che cosa è Raga Siiii Gol E segna anche il portiere Ma che sta a fare Mi sta fanno in giro Si avanti Ma che ho fatto di stare Che tra chi è Oh Ok Oh Oh Se vabbè Non ci vediamo dai Grande c'è Oh E' E' Ma Gesni Costa non mi sbagliare Questa volta Quando vede Quando vede All'ultimo Dai Uendus Dai Uendus No Dai Costa I best Beach point Della battita Mannaggia Vai Inviala Troppo che non mi spiegate Cavolo Bravo Troppo Troppe finte Oddio Mio Che brutto Che schifo Ma l'ho visto Ma che tira Ma che è Che non è Piede suo Però Madonna Oh madonna Non mi dici Che finisce Partita Ma rabbio Di poi Da qui Ma non ci vedo In G5 In G5 Donati Vago Di quello Non è finita Non è finita Non è finita Sì No 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 Sì Vittoria Questa nostra challenge Giocatori Invertiti Gesti Per Buffon E Messi Per Ciao 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 Bella No Ne ho battuto le mani Faire, faire.